buongiorno a tutti parliamo oggi con Flavio Lotti che è il direttore della rete nazionale delle scuole di pace e parliamo con lui perché la rete nazionale è uno degli organismi che promuovono una iniziativa molto importante in programma proprio per la giornata del primo marzo che è la giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta anzi per la verità è la prima giornata nazionale in assoluto dedicata a questo tema senta Lotti perché questa giornata nazionale della cura e perché questa è la prima volta intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie di questa opportunità beh perché come dire mai come oggi sentiamo tutti il bisogno di di cura abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda cura di noi in realtà questo da quando veniamo al mondo insomma però poi quando cresciamo tendiamo a dimenticarci di questo e invece viviamo un tempo in cui stiamo in qualche modo pagando il costo salato di tanti anni di incuria no del pensiamo al pianeta quello che sta succedendo al pianeta pensiamo alla alla salute quello che è successo con la pandemia del covid 19 pensiamo alla alla guerra che è scoppiata insomma che anche lì è frutto del di tanti atti di incuria diciamo così oppure pensiamo anche a alla alla condizione oramai difficile diciamo di in cui ci troviamo dal punto di vista sociale ed economico insomma no con tutte le carenze che quotidianamente ci troviamo a fronteggiare ecco la cura è un bene essenziale della vita che dobbiamo riscoprire innanzitutto dobbiamo riscoprirla perché è uno di quei beni che ci può aiutare davvero a ad affrontare a cambiare le cose nel concreto ecco viviamo in un tempo di grande impotenza in cui sentiamo di dover fare i conti con problemi molto grandi non sappiamo cosa fare ecco la cura è quella con quell'attività che applicata ovunque perché stiamo parlando della cura della vita delle persone ma di tutte le cose poi in sostanza insomma della nostra comunità del pianeta in cui viviamo la cura è quella cosa che riesce a cambiare realmente la realtà ogni gesto di cura ogni atto di cura è capace di produrre gioia di produrre benessere di produrre felicità e quindi abbiamo bisogno di ricominciare a dare valore ecco alla cura tutte le attività di cura ai gesti e anche ai lavori di cura perché purtroppo questo sono molto in qualche modo sottovalutati ecco abbiamo bisogno di cura e di pace direi anche in questo momento proprio è una fase drammatica per noi per l'europa per il pianeta intero e per parlare di questo il primo marzo appunto c'è questa giornata nazionale sono tante le scuole e i comuni che in tutta italia stanno aderendo a questa iniziativa ci vuole dare qualche numero sì assolutamente è una giornata straordinaria un giorno di scuola direi innanzitutto davvero eccezionale perché decine di migliaia di studenti e non sto esagerando decine di migliaia di studenti e studentesse di 113 città italiane 133 sono gli istituti dall'infanzia alle superiori che sono coinvolte vivranno la cura andando a conoscere in prima persona nel proprio territorio nella propria città chi si sta prendendo cura della loro salute dell'ambiente della città della giustizia dell'informazione della cultura della vita degli animali quindi una grande giornata di educazione civica centrata sull'educazione alla cura e per molti è proprio parte di un programma che abbiamo costruito negli anni che si chiama per la pace con la cura è un programma didattico che inizia e finisce con come dire ogni anno insomma che non dura un giorno ma che è che si che si costruisce si vive nelle giorni tutti i giorni di scuola insomma quindi il primo marzo c'è la giornata ma poi le attività ovviamente andranno avanti ancora mi pare di aver visto dal programma fino alla fine di maggio cioè praticamente quasi fino al termine delle lezioni è così sì abbiamo abbiamo pensato quest'anno di concludere tutte le attività che si svolgeranno che si stanno svolgendo nelle scuole con una un grande un grande evento collettivo la ci sarà il 21 maggio domenica 21 maggio faremo una nuova edizione della marcia per la pace per uggia assisi che per la prima volta sarà dedicata esclusivamente ai giovani studenti alla scuola a tutti coloro che stanno investendo sulle giovani generazioni sulla loro crescita e il tema di questo grande incontro che sarà un po il culmine di tanti percorsi di educazione alla pace alla cura di educazione civica è il trasformiamo il futuro questo è un po lo slogan nella giornata del primo marzo le scolaresche usciranno dalle aule per visitare luoghi centri di cura ecco ci faccia qualche esempio per capirci ma sì gli esempi sono tantissimi intanto se vogliamo restare nel campo della della salute le parlo di perugia che è la città dove dove sono insomma dove ci saranno davvero decine di attività ci saranno degli studenti che andranno al centro trasfusionale per vedere il ciclo del sangue andranno poi al centro di salute mentale un altro un altro centro che si prende cura di persone con disabilità poi ci saranno delle studenti che andranno a incontrare il procuratore capo della repubblica di perugia alla procura della repubblica per per parlare della cura della giustizia della legalità ci saranno gli studenti che andranno dal vescovo di perugia che gli porterà a vedere il villaggio della caritas il villaggio della carità un altro gruppo andrà al centro pari opportunità dove c'è il telefono che si prende cura delle donne vittime di violenza un altro gruppo andrà andrà alla sede regionale della rai per la cura delle parole delle informazioni poi dal sindaco ci sarà un incontro sulla cura delle città ancora sugli anni con gli animali presso il canile e lo sportello a quattro zampe della provincia di perugia insomma tantissime tantissime veramente attività in cui come dire questa questo sforzo di conoscere di scoprire dovrà poi essere trasformato in un racconto per cui gli studenti non non sono chiamati solo a vedere ascoltare ma anche a raccontare poi a dare voce e a promuovere questa le cose che avranno visto e conosciuto insomma perché dobbiamo eliminarlo se sono importanti le dobbiamo conoscere e valorizzare senta l'ottima se una scuola un comune finora non ha fatto nulla in questa direzione ma volesse aggiungersi alla vostra rete e soprattutto volesse prendere occasione proprio dal primo marzo per fare delle attività cosa può fare voi che tipo di supporto potete dare ma diciamo la cosa più bella è che nel corso degli anni si è creata una comunità di insegnanti di dirigenti scolastici diciamo che ci credono e siccome ci credono ci lavorano e quindi come dire è un noi collettivo che ha preso forma nel corso degli anni questa rete è nata nel metà degli anni 90 insomma quindi come era mai cresciuta cresciuta molto c'è un sito c'è un sito che si chiama la mia scuola per la pace punto it che è un po il punto di riferimento insomma altrimenti facendo un giro di google si trova ci trovano tutti tutti i riferimenti nostri la nostra sede a perugia ma le scuole che rendono questa questo nostro lavoro diciamo vivo e vero diciamo sono sparsi un po in tutta italia quindi è anche molto sarà anche molto bello poi contagiarsi vicendevolmente ognuno può imparare dagli altri abbiamo visto in effetti dal programma che la distribuzione delle scuole dei comuni copre praticamente tutto il territorio nazionale cioè non c'è nessuna regione esclusa ad eccezione della valle d'aosta se non ricordo male è giusto no è corretto è corretto ed è molto bello che siano coinvolti anche piccoli non solo i grandi centri insomma anzi diciamo è una rete molto bella di di persone che che rendono viva e vera la nostra scuola che sì che che si impegnano ecco perché tutto questo ricordiamo la cura è una cosa bella ma è anche una cosa faticosa insomma e anche la cura educativa è parte di questa fatica per cui mi piace ecco riconoscere la bellezza dei contributi già ci stanno arrivando fotografie ci stanno arrivando testi documenti io qui ho appena ricevuto un album con tutti i disegni fatti in un istituto che che ha un'aula speciale all'interno dell'ospedale per loro per loro la cura è una cosa significativa hanno fatto un laboratorio in preparazione di questa giornata e ieri ci hanno portato i risultati è davvero straordinario perché anche per quei bambini e quelle bambine che che hanno diritto all'istruzione alla scuola questa giornata in qualche modo è servita a sentirli ancora più al centro ecco delle attenzioni di un'unità bene quindi mille auguri per questa prima giornata nazionale della cura e soprattutto ci auguriamo che sia proprio davvero la prima di tante tantissime altre giornate nei prossimi nei prossimi anni e che ci siano davvero tante iniziative perché di pace e di cura abbiamo davvero tanto tanto bisogno in questo momento in questa fase della nostra vita e della vita del nostro pianeta grazie grazie flaviolotti grazie davvero grazie la cura ci può salvare la vita grazie 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 a tutti